Allora, siamo qua stamattina a Piazza Vittoria Vena da Salerno, così come in tutte le piazze d'Italia, per far comunicare e portare a conoscenza dei cittadini italiani dei due referendum della Cigetta. I due referendum vanno a difesa del lavoro, per lo statuto dei lavoratori, per i voucher per i giovani, che c'è un uso sproporzionato, e rispetto anche alla questione degli appalti, in particolare nella pubblica amministrazione. Su questo intendiamo comunicare con i cittadini, fare alleanze con i cittadini, dicendo qual è l'argomento di questione. Oggi parte la campagna elettorale, faremo pressione nei confronti del governo per avere la data di quando si va a votare per il referendum e siamo convinti che i lavoratori, cittadini pensionati, saranno a fianco alla Cigella per riportare i diritti al fine. Grazie a tutti. Grazie a tutti.